Piagge temporali e anche violenti in arrivo sulle regioni meridionali. La perturbazione che ieri ha interessato il nord e parte del centro Italia si sta spostando verso il sud con rovesci e temporali sparsi che tra mercoledì e giovedì potranno causare intenso maltempo. Oggi piagge temporali interesseranno Lazio, Umbria, Marchia, Abruzzo, Molise e poi Casartane. Migliora invece al nord-est e sulla Toscana. Rischio di violenti temporali su Frusinate, Golfo di Gaeta e Casartano. Un controtendenza, bel tempo soleggiato su tutto il nord-ovest anche se venti freschi da nord-nord-est porteranno un sensibile calo delle temperature notturne sulle regioni settentrionali. Domani ancora piagge temporali su Bassolazio, Casartano, Napoletano, Salernitano, Cosentino, Crotonese, Materano, Barese e Leccese. Sole al nord e il resto del centro ma con pungente a freddo notturno. I problemi cominceranno tra mercoledì e giovedì quando un'intensa bassa pressione dal nord-Africa si muoverà verso il basso terreno il Marionio alimentata da aria fredda da nord-est e aria calda da sud. Una situazione che se verrà confermata nei prossimi giorni provocherà pesante maltempo con rischio di bombe d'acqua e alluvioni su Sicilia, Calabria, Basilicata e a seguire Puglia meridionale. Mentre il bel wasn't servile al nord-est e un globale non si può gradire per i lavori 18 giorni vittorio Lives